Ciao Danino JFC, buona domenica! Una domenica senza Juve, è stato anche un sabato senza Juve, quindi quasi un weekend diciamo senza Juve, anche se abbiamo giocato venerdì sera, però il sabato e la domenica di calcio ce lo stiamo vivendo senza Juve. Però venerdì abbiamo vinto e questo era l'importante. Io ho sempre questo riflesso negli occhiali, vediamo se abbasso questo, è forse un po' meglio, un po' più scuro però meno riflesso. Nei giorni scorsi vi ho chiesto nelle storie di Instagram, quindi mi raccomando se non mi seguite su Instagram c'è il link qui sotto, seguitemi o vi basta cercare Nino JFC su Instagram e mi trovate, perché soprattutto nelle storie metto comunque sempre roba interessante e non solo, perché anche nei post soprattutto dritte, qualcuno di voi mi aveva chiesto info su maglie da calcio, seguitemi su Instagram, il consiglio che vi do. Comunque sia su Instagram che nella community, nella sezione community qui di YouTube, vi ho chiesto di farmi delle domande per preparare questo Q&A in modo da magari portarlo proprio tra sabato e domenica. Infatti adesso vado a rispondere alle domande che mi avete fatto. Prima di cominciare ragazzi lo sapete bene, il like. Il like è sempre importantissimo, è gratuito, non vi costa nulla, ma è fondamentale, parola che ripeto ormai fisso in ogni video, perché grazie al vostro like il canale cresce, può crescere. Mi raccomando, se volete sostenermi, potete fare così. Se volete, questo però extra, diciamo il like è quasi obbligatorio, mettiamola così, è facoltativo invece abbonarsi. Qui sotto, tastino abbonati, se volete potete, diciamo, ampliare la vostra esperienza, va bene, diciamo così. Quindi qui sotto. Allora ragazzi, cominciamo. Vado, apro tutte e due le piattaforme, parto magari un attimino da Instagram e ovviamente citerò gli autori delle domande e vale anche come ringraziamento per avermele fatte. Allora, Maurizio Ace, che avete visto anche in live con noi, avete ascoltato, più che altro in live proprio con noi, con me e Marco A7, che mi dice Solita domanda, fai tu il mercato della Juve prendendo un giocatore per squadra delle prime quattro in classifica? Ebbene, le prime quattro in classifica sono, vabbè, senza l'ordine preciso, Milan, Roma, Napoli, Atalanta. Caro Maurizio, ho pensato, piuttosto che dirti giustamente il giocatore che preferisco, tu mi hai chiesto di fare il mercato. Quindi ho pensato un po' alle esigenze della Juventus e quindi un difensore centrale, un terzino, un centrocampista e magari, perché no, un'ala, ok? I nomi che ho scelto sono, cercando appunto di seguire questi buchi da tappare, sono Tomori del Milan, Kvara Schkela, se si pronuncia così, ovviamente, del Napoli, Spinazzola della Roma e Copminers dell'Atalanta. Ho scelto questi quattro, magari del Milan potevo scegliere Teo Hernandez oppure Leao, però ho cercato di ragionare per coprire questi quattro buchi problematici che abbiamo nella nostra squadra. Interista Forte mi chiede, Leao o Kvara Schkela? Allora, è vero che ho appena citato il Giorgiano del Napoli nel discorso dell'acquisto, però ho spiegato che ho dovuto scegliere anche in base a dover coprire determinati buchi. Però, messo così, Leao o Kvara Schkela? Io dico Leao. Al momento dico Leao. Il Giorgiano del Napoli è questa nuova stella, questa esplosione improvvisa che c'è stata in Serie A, però ovviamente deve ancora farne di grandi prestazioni per arrivare a livello di Leao che anche lui ha ancora da crescere, però per esperienza maturata nel nostro campionato è più avanti. Quindi scelgo il rosso-nero. Michele Di Vincenzo, cosa ne pensi della Juventus in questo momento? Cosa ti devo rispondere, Michele? Cosa ne penso? Guarda, in questo momento qui, quando mi hai fatto la domanda, ancora non avevamo giocato con l'Empoli. Sì, perché il post credo di averlo messo sì, sicuramente prima di venerdì sera. Cosa penso? Sono preoccupato, sono un po' avvilito, però sicuramente la partita con l'Empoli mi ha fatto piacere e mi dà speranza che magari questa Juventus possa iniziare un percorso diverso, anzi totalmente opposto rispetto a quello che è stato l'inizio di stagione. Però per il momento è una speranza. Vediamo se diventerà realtà. Poi Pulvis69, questo sempre da Instagram, dalle tue parti è così difficile essere Juventini? Ma guarda, in realtà no. Se ti sai muovere bene, no. Anzi, io dico sempre che talvolta è anche divertente, perché poi si innescano delle belle battaglie, ovviamente sempre e solo verbali e io personalmente mi defilo da tutte le situazioni che invece poi vanno a sfociare in altro e quindi no. E poi siamo tantissimi, perché a Napoli siamo tantissimi, Juventini. Non so la percezione che si hanno dalle altre regioni, ma è così. Poi Marco Vighetti, questa è l'ultima da Instagram, cosa pensi del pallone d'oro a Benzema? E che cosa devo pensare? Meritatissimo. Sarebbe stato uno scandalo non darlo a Benzema, così come è stato uno scandalo non darlo a Lewandowski, quindi non assegnarlo proprio in quel caso, non darlo a un altro, ma Benzema è un giocatore straordinario che viene da un periodo e da un percorso, insomma, nell'ultimo anno pazzesco, pallone d'oro, che già tutti sapevamo e per fortuna è andata proprio così. Passiamo alla community di YouTube. Poi magari, non so, ragazzi, la prossima volta potrei fare un video di quelli lì che poi dopo vado a cancellare in modo che lo vedete meglio. Però voi tenete d'occhio la sezione community di YouTube, appunto. Allora, Stefano Posadino, che consigli daresti a chi vuole aprire un canale YouTube? Guarda, non è una questione di consigli, ti posso dire le mie idee, ti dico due cose su questo, ci pensavo quando ho letto la tua domanda. Io dico solo due cose, poi magari un discorso più ampio, magari in futuro se ne potrà anche parlare. Le due cose sono, primo, non aprire un canale YouTube con l'idea, ok, facci video così divento famoso, così poi, che ne so, la mia squadra mi invita allo stadio, oppure faccio i video con quelli che al momento considero dei grandi della piattaforma, degli idoli. Cioè non si può partire in questo modo, perché l'esperienza che tu devi maturare, l'esperienza anche proprio personale, che tu maturi quando hai poi un canale YouTube, ti serve e in quell'esperienza c'è anche magari il fatto che non si cresce, che i video fanno poche visualizzazioni, imparare a capire meglio anche le dinamiche stesse della piattaforma e comunque tieni presente, purtroppo io ne so qualcosa, che è una piattaforma non sempre meritocratica, cioè nel senso che quello che a te può sembrare una cosa giusta, un percorso fatto bene, un'attenzione che tu ci metti in ciò che fai, potrebbe non andare bene rispetto magari ad altre situazioni che ti sembrano buttate lì e che invece vanno bene su questa piattaforma. Quindi è tutto da scoprire questa piattaforma. Questo è il primo consiglio, quindi farlo per se stessi, per la voglia di parlare di calcio, per la voglia di esprimersi, ma senza quell'ossessione. Prima cosa. Seconda cosa, non scimmiottare altri. Cioè tu hai questo personaggio che ti piace, ora tu hai fatto la domanda a me, magari mi segui, magari ti piace il mio modo di fare YouTube, non puoi, non devi anzi, aprire un canale YouTube dicendo ok faccio quello che fa Nino. No, puoi prendere ispirazione, ma tu devi essere te stesso, perché io poi penso che alla fine nel cuore della gente ci rimani se sei te stesso, la gente si affeziona a te, infatti a me al di lavoro del discorso, i numeri grandi, i numeri piccoli, fa piacere avere questa community di persone che sono molto affezionate a me, ma a me Nino, a me persona, e io altrettanto con loro. Quindi essere se stessi e basta. Queste sono le due cose che mi sento di dirti. Antonio, sei mai stato in Germania? Se no vorresti andare ancora? No, non sono mai stato in Germania, però mi piacerebbe visitarla, una grandissima nazione, però non ci sono mai stato. Gianluca, l'amico Gianluca, dice, sei mai stato in Puglia? Se sì, dove? E ti è piaciuta? Sono due domande, rispondo prima a questa. Sì, sono stato in Puglia 3-4 volte, una volta vicino Lecce, ma non mi ricordo dove, quindi è inutile sforzare la memoria perché ci ho pensato anche prima e non mi viene in mente. E poi sono stato 2-3 volte a Vieste, che è meravigliosa, che adoro, non ci vado da tantissimo tempo, però è veramente molto carina e ho dei bei ricordi legati a Vieste. La seconda domanda, sempre di Gianluca, come mai non stai twittando più? Erano troppo divertenti i tuoi tweet. A parte ti ringrazio, ma quello che alla fine mettevo su YouTube lo sto mettendo su tutte le altre piattaforme e tu che mi segui un po' ovunque lo sai, ma su Twitter non sto scrivendo più nulla perché è una piattaforma secondo me troppo tossica. Il tossico ha preso ormai definitivamente il sopravvento. Non puoi più scrivere nulla, anche se fai una battuta c'è il rischio che questa porti una sorta di shitstorm perché viene magari rigirata o perché si finge di non voler capire il senso. Ormai è una piattaforma estrema, ma un estremo tossico che non mi piace. Io personalmente non ho subito nulla, diciamo, sia chiaro. Non è che mi hanno fatto qualcosa che mi ha fatto allontanare. C'è stato in passato qualche episodio, qualche mezza shitstorm basata tra l'altro sull'ignoranza della gente perché magari retwittavano una roba vecchia fingendo di non capire il significato. Ma questa è una storia lunga. Ma non è assolutamente questo perché è successo veramente molto tempo fa. Io ho continuato a utilizzare la piattaforma, però ultimamente mi rendevo conto di una cosa. Quando mi veniva voglia di scrivere un tweet, una battuta ma vuoi anche proprio un ragionamento perché mi piace fare anche tweet, cioè scrivere sui social miei pensieri più o meno logici, avevo questa cosa di doverci sempre pensare prima. Cioè mi capitava, voglio scrivere questa frase, lo faccio, non lo faccio, non è che poi dopo viene capita male. E questa è una cosa terribile. Quando arrivi a questo significa che ti devi fermare. E allora ho detto no basta, è una piattaforma che per il momento è congelata. Questo è però, comunque tu come tutti gli altri potete seguirmi su Instagram, ovviamente qui su YouTube, su Facebook, la pagina Facebook la sto riutilizzando un po' di più, ma in realtà condivido un po' la roba di Instagram, quindi potete far così. Allora voglio chiudere con Alessandro, Alessandro sempre presente sotto i video, sempre presente con il like, con il commento, è veramente un utente modello da questo punto di vista e che mi fa tante domande, veramente parecchie, e quindi ti ho messo per ultimo Alessandro proprio perché così ti dedico proprio questo spazio lungo. Vediamo, allora, da dove è nata la tua passione per la Juventus? Allora, questo l'ho raccontato ma tanti anni fa sul canale, sull'altro canale. Io ero piccolino, avevo 7-8 anni, ora non mi ricordo, seguivo il calcio più per le figurine, i gadget sportivi, però non avevo ancora un indirizzo di tifo, mettiamola così, rischiavo forte di essere interista perché avevo il mio amico del cuore, il compagno di banco che invece era grande interista, però una volta da una busta a sorpresa, quelle lì che si acquistavano in edicola, che non so se esistono ancora, che mi regalò mia madre a tema calcio, all'interno di quella busta c'era una piccola rivista dedicata ai tifosi della Juventus, ai giovani, ai ragazzini tifosi della Juventus, e sulla copertina c'era Alessio Tacchinardi in maglia bianconera. E io ebbi, quello che poi ho definito nel mio racconto qui su YouTube, l'imprinting bianconero. Da lì è stata una folgorazione. Per Tacchinardi e per la Juventus. Quello diciamo è il primo ricordo, e infatti la domanda che mi fai è il primo ricordo della Juventus che hai? Questo. Questo è il primo ricordo in assoluto, e un altro che ti posso dire quando mio padre mi regalò, mio padre tifoso del Napoli, attenzione, mi regalò una maglietta di quelle lì da bancarella, insomma così, della Juventus, di Davids all'epoca, che ho ancora, tra l'altro. Non mi ricordo, forse in un armadio dietro questo stand, che anche quella l'ho fatta vedere. Magari ci sarà occasione di rivederla. Questi sono i miei due ricordi. Quali emozioni ti danno vedere le partite allo stadio correlativo viaggio? Allora, sono andato a vedere Juve Spezia facendo il viaggio in bus, molto lungo, poco più di dieci ore all'andata e lo stesso numero di ore per il ritorno, è emozionante, è molto stancante, però l'adrenalina che tu vivi soprattutto nell'andata, diciamo così, alla fine valgono il fatto di fare questo sforzo. È una cosa che non si può fare sempre, per ragioni di tempo, per ragioni anche di soldi, perché comunque oltre al biglietto ci devi aggiungere anche questi viaggi qui e poi anche per ragioni proprio fisiche, perché se lo faccio sempre non sopravvivo, però molta emozione, perché comunque è una passione, perché è l'amore per la Juve e si fa volentieri. Poi, come ti è nata l'idea di aprire un canale YouTube? Allora, questo anche l'ho spiegato un po' di tempo fa, io ho sempre scritto di calcio, sui social, sui siti online, ho collaborato con dei siti online proprio di calcio e non conoscevo il mondo dei vlogger calcistici, assolutamente, cioè YouTube, come ho raccontato tante volte, lo utilizzavo proprio al bisogno, quando mi serviva di cercare qualche filmato, soprattutto magari qualche canzone, questa roba qui, andavo su YouTube. Non la vivevo come una piattaforma da magari visitare quotidianamente. Per puro caso scoprì questi vlogger tifosi, all'epoca soprattutto di altre squadre, cioè all'inizio proprio io non seguivo quelli della Juventus, mi dico dove seguivo Peppone, Corea Azzurro del Napoli, Sikolf Gabomen della Roma, soprattutto seguivo loro di altre squadre, perché per me era interessante sentire i tifosi di un'altra squadra, no, perché io delle altre squadre al massimo sentivo i giornalisti, anche quelli tifosi, però comunque i giornalisti. Il tifoso, come me, di un'altra squadra non lo seguivo e quindi avere la possibilità di ascoltarlo era per me molto interessante come punto di vista. E quindi questi ragazzi, più piccoli di me, poco più grandi di me, insomma, sta gente qui che faceva questo. A un certo punto, dopo averli seguiti per un po' di mesi, mi sono detto, ma non è che sta roba potrei farla anche io, e per me è stata una cosa incredibile farlo, perché sono una persona estremamente timida, in passato veramente al limite del patologico, ultra riservata, e questo lo sono ancora, per me espormi, come sto facendo adesso, davanti a una telecamera era pazzesco, però invece ci sono riuscito, e infatti credo che mi abbia anche migliorato fare questa cosa. Quindi questo è stato l'inizio. Qual è il tuo attore preferito e film preferito? Allora, su film preferito, guarda, non ti posso rispondere, perché è un po' come quando parli di calciatori, no? Dici giocatore preferito, magari dici un attaccante, però allo stesso tempo c'è un portiere che per te è bravissimo, non li puoi mettere sulla bilancia, sono due ruoli diversi. I film è quasi la stessa cosa, ci sono tanti generi, ci sono tante situazioni, tante storie, quindi è difficile dirlo. Come attore ti posso dire, invece, più tranquillamente, anche se ce ne sono ovviamente tantissimi, però che Tony Servillo per me è il top assoluto. Poi ce ne sono tantissimi altri che apprezzo, però Tony Servillo è il mio attore preferito, e ti aggiungo Paolo Sorrentino è il mio regista preferito. Ecco, in modo che ti ho recuperato una risposta. Qual è il tuo genere musicale preferito? Allora, io non sono un grande appassionato di musica, nel senso che più che altro, più che discorsi di genere, ho il cantante preferito, i cantanti preferiti, i gruppi preferiti, e ascolto magari loro. Poi in realtà, tanto altro, però, più quel paio di brani di Tizio, quell'altro di Kai, insomma, seguo, conosco, visto che purtroppo si parla di celebrità, insomma, artisti non più in attività, per cause di forza maggiore, però i miei idoli a livello musicale sono Pino Daniele, proprio nel cuore, Lucio Dalla, che reputo un poeta prestato poi alla musica, soprattutto per i testi, e ti posso dire i Queen, però in realtà non essendo proprio un grandissimo appassionato di musica, come invece lo sono a livello cinematografico, non ho particolare predilezione per quello, per quell'altro genere. Mi piace un po' di tutto, mi piace il jazz, per esempio, se parliamo di genere musicale, però a livello musicale è tutto un po' confuso, diciamo, per quanto mi riguarda, senza un indirizzo preciso. Questo è quanto? Queste sono le domande e ci vediamo a questo punto, magari tra qualche mese, non lo so, preparatevene altre così aggiungiamo qualche altra cosa, va bene? Noi ci vediamo nei prossimi video e come sempre, ma se guardate che sta passando, cioè ma vi rendete conto, ma voi vi rendete conto io in che situazione registro i video? E qui c'è la strada, ambulanze, motorine, cioè like, like solo per questo. Ciao ragazzi.